Porca miseria, non c'è più lo squarna, dove è lo squarna? Michele, mi dispiace, mi hanno fregato lo squarna, oggi è una giornataccia, purtroppo andava così, non c'è più, guarda, me l'hanno rubato, me l'hanno rubato. Non ci posso fare niente, non c'erano le chiave. Cos'è questo rumore che si sente? Non so, sembra quasi una moto da cross. Non capisco, non capisco, non è che mi hanno fregato lo squarna e c'è sta nanna in giro. Porca miseria. Questo mi è pieno per culo, capito? Mi è venuto a culare la moto da mica... No, non è possibile, non è quello. Intanto non partiva, era tutta sfasciata. Non può essere, non può essere. Tu, posso? Ma... Michele se persona la moto non è finita, non è finita, però fagliela sentire, accende sul ciaffo, la folle pure si è messa, accende, accende, fagliela sentire Tienela, no no vabbè lasciala accesa, ho detto tienela Tienela, ma che c'hai faticato te, te l'hai fregato e non mi metto te Carica la barba perché è un po' da brutale Registra tutto No, grazie, con le marce No, non ti sa, il cavo è fuori, no, filmati Non ci fa il matto, morgogliatuto, no, basta di cazzo No, grazie Alla, sembrata un po' Alla, sembrata un po' La frizione è posta Oh, c'è quel carino dentro E' tanto alto Porca puttana C'è arrivato lo stop prima un attimo Più alto che la mia, devo stare così Devo stare Ma mia, altissimo Non ho tirato Come no Io non l'ho tirato Non l'ho tirato Non l'ho tirato Che dici? Che dico? Che è un'altra impresa Siuscita molto bene Del nostro team Non si può di un cazzo La carburazione pure Non mi pare che è malvagia Comunque E' a posto la frizione No, la carburazione La carburazione ancora non va d'altore Però non è che ci stai tanto lontano Secondo me Si, infatti Comunque Non ti è sembrata Sotto C'è il tuo zio Facciamo un po' qui C'è il tuo zio C'è da tempo che c'è da registrare la tuta Si, ma anche forse comunque Ma il cambio è a posto Come prima acceso mi sono trovato bene Il cambio è a posto La frizione è a posto Ho cambiato le pinzette Ho cambiato il pistone Purtroppo I video non c'è Perché Quando devi stare concentrato Ti andrà proprio qui su? Quando devi stare concentrato Con i mezzi A fare le cose A fare i pezzi A fare tutto Questo pure non va questo Un caletto Un po' giusto Non gliela fai Stai lì a fare pure i video È difficile A meno che Non c'è qualcuno che ti filma Ma Anche lì è un problema Perché se io faccio un lavoro Lui ne fa un altro Non metti in culi a me Se ti dico qui C'è una cosa Una vita un po' così Vabbè, è normale Perché quando sei concentrato sui mezzi Apri un banco Vabbè, certo Devi contrarlo tutto Le distanze Le pinzette I distanziali Che vuoi messi per ogni mezzo I distanziali Le valvole Tutto quanto Praticamente È impossibile A fare un video Non conto che te stai a sede Fai Una chiacchierata Fai una cosa È una cosa normale È una roba un po' difficile Un po' complicato Poi c'era il problema sull'elettronica C'era un problema sull'acqua C'era il problema sulla fervurazione C'era il problema sugli attacchi della marmitta C'era il problema sugli attacchi dell'erole Era un macello L'unico problema che era la marmitta L'unico problema che non c'era La marmitta no C'è il problema pure sulla marmitta Perché Avendo messo sulla valvola adesso Come dovrebbe stare sul telaio Non c'è più l'attacco della marmitta Non c'è né l'attacco lì Né l'attacco lì Né l'attacco lì Né l'attacco sotto Quindi devo fare tutte le staffe Praticamente adesso che tiene la marmitta C'è solo una molla E una vite lì Non va bene Bisogna fare tutte le staffe Per tutti gli attacchi C'erano messo sull'olio bardal Più c'erano messo il protec Che è l'olio questo qui Nanotecnologico Nanotecnologico C'è il motore C'erano messo su come olio di una miscela E il bardal O c'erano messo il samurai Ma per provarlo c'erano messo il samurai C'erano messo su una cadera Di quelle all'iridio Platino Che cacchio è? All'iridio O al platino Al platino Iridio Iridio Emo fatto tutto un bel lavoro interno del motore Emo fatto insieme a Mattia Eccolo qui Sempre presente Sempre presente Che mi dà una mano Emo ordinato il pistò Emo tagliato il parafango L'impianto elettrico Come prima accesa Anzi Come prima accesa Ma sì Infatti è stata la prima accesa E devo dire che è andata veramente bella Bene Ma per me è stato acceso al picciato pure Cioè si è al picciato pure la seconda Spetanellata No aspetta E l'ho messo sul carburatore Che C'era la piscina di benzina Praticamente pisciava da tutti i pori Su squarna Ma da tutti Non c'era un buco Un due che non pisciava benzina Alla fine L'ho revisionato tutto Ho cambiato i spilli I getti I cosi Ho levato il miscelatore Che adesso ci sarà da fare pure Una chiusura qui Perché sennò vedi esce fuori l'olio Ci sarà da fare Una guarnizione con una chiusura in alluminio Per sigillare il miscelatore Che il padrone non ce l'ha voluto Infatti c'ha ragione Perché Girando in testa maniera Sta roba Con il miscelatore Il pistone nuovo Il fascio nuovo E tutto quanto Ingranaggi Albero Avemmo controllato tutto Avemmo cambiato i cuscinetti I paroli dell'albero I cuscinetti I paroli interni I paroli del gambio I paroli di tutto E E Tra Cuscinetti I paroli I paroli I guarnizioni I paroli E via discorrendo Ci ho voluto 150 euro Solo tra cuscinetti I paroli e le guarnizioni 150 170 euro Le terzi Più i sege Più la gabbia a rulli Più il pistò Più le fasce Più i cerchi stanno lì dietro vuole mettere su i cerchi mutabili con le rothe mutabili se sarà da lavorarci ancora tanto però diciamo che come motoristica è a posto c'è la taglia qualche ritrocco, la taglia una carburata da attaccare il filtro del coso che l'ho fatto così alla meglio e peggio a tirare via per vedere se perdeva il carburatore perché tutto di oggi se non sono stato tutto di stamattina sono stato preso sistema al carburatore dei problemi ce n'è tantissimi tantissimi una marea poi ho sistemato pure l'impianto elettrico che non partiva non girava con la chiave era un problemone era un problema grosso sono riuscito a trovare un filo che dal motore mi va su quindi ho fatto tutto il collegamento degli statori ho cambiato l'acceleratore perché il suo non c'aveva oltre che c'ha il deviatore che uno andava al miscelatore e uno andava al carburatore non c'aveva le regolazioni dei fini non c'aveva niente quindi il suo ho dovuto cambiare tutto e ho dovuto cambiare pure l'acceleratore perché l'acceleratore questo qui era completamente rovinato è tutto spaccare tutto sgagnato non si poteva guardare allora ci ho messo su un altro acceleratore rapido solo che adesso sarà da vedere pure questo perché non torna indietro bene non so se la molla che tanto tempo può essere stata ferma se non capitano se incastra però se non jump è il pezzo avanti vanno aperto il motore chiuso il motore cambiato il pistone tutto quanto carburazione acceso il mezzo frizione cambiava fine se non per passa avanti però ancora chi la voglia un casino però sta marmita è una figata bella a me questo è un bel posto ci ho messo ce l'ho messo all'acqua ci ce l'ho messo e poi mi se ne è buttato un po lì sopra praticamente questa era la benzina non so se riuscite a vederla che era rimasta dentro il serbatoio della benzina che ancora è quella verde guarda che roba e praticamente ho dovuto pulire tutto il serbatoio quindi pulire il serbatoio ma c'era il casino è stato veramente un'impresa un'impresa e ancora l'impresa non è finita quindi un bel like tenetevi aggiornati e michele michele sta tranquillo che il mezzo e le mani mie viene fuori uno spettacolo che dire niente ce lo vedremo a tutti gente ciao